Cerasicoltori, buongiorno, benvenuti al bollettino fitosanitario Cerasicolo. Fase fenologica. Nella bassa, media e alta collina sono in stacco le varietà a media maturazione. Nella media collina le varietà tardive stanno completando la colorazione, mentre nell'alta collina sono ancora di ingrossamento del frutto, primo viraggio di colore. Note, si mantengono ancora rilevanti i danni da cracking. Moniglia, qualche presenza di infezioni. Corineo, qualche presenza di foglie chiazzate in caso di necessità intervenire con prodotti rameici o ziram o captano. Ricamatori, ancora limitata presenza di cacecia. Nessuna presenza di danni da capua. Rodilegno, presenza in aumento. Non si è ancora raggiunto il picco di catture per attuare un intervento fitosanitario. Si ricorda, se non già eseguito, di posizionare le trappole ad attrattivo feromonico per la cattura massale. Cimice asiatica. Presenze di adulti e ovature. Non sono stati ancora individuati presenza di giovani. Prosegue quindi il ciclo della prima generazione estiva. Pianificare strategie di difesa solo in caso di necessità. Cocciniglie. Presenti infezioni di cociniglia di San Jose, in alta collina. Se necessario, intervenire con olio minerale, spirnetronram o pirixoxifen. Attenzione ai tempi di carenza. È consigliato inoltre eliminare i rami più colpiti. Afidi. Presenze di colonie di afide nero nella media ed alta collina. Se necessario, intervenire con sali potassici o piremicarb o altri prodotti specifici. Attenzione ai tempi di carenza. Drosofila Suzuki. In continua crescita su tutti gli areali cerasicole. Si ricorda di mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza. Utilizzando piretrine, acetameprid, detametrina o spinetoram. Chi intende attuare la cattura massale tramite il posizionamento di trappole utilizzare attrattivo Drosky Drink oppure miscela casalinga. Con sostituzione settimanale dell'esca ed un adeguato smaltimento lontano dai ceraseti. Mosca della frutta, nessuna presenza. Un saluto dal presidente Davide Danese, dall'associazione Cerasicoltori e da Ortofrutta Veneta e un arrivederci al prossimo bollettino.